SIGEP 2023 continua, ci troviamo nello stand di Balugani SRL, una società che si occupa di filtrazione e depurazione dell'acqua con tantissime novità presentate oggi da Nadir Balugani, l'amministratore dell'azienda. Nadir, sono tre anni che non ci vediamo su orecatv.it, bentornato. Grazie mille, grazie a tutti, grazie Fabio. In questi tre anni sono accadute molte cose, lasciamo stare tutto ciò che è relativo alla pandemia, all'emergenza sanitaria che è stata causata dal Covid-19, parliamo di lavoro e quindi delle vostre innovazioni e dei prodotti che avete inserito a catalogo. Sì, le nostre innovazioni sono state tante, ad aggiungere le cartucce e ampliare la nostra gamma BTB che sarebbero cartucce finalizzate al trattamento dell'acqua per poter togliere tutti i tipi di inquinanti, alcuni nell'arsenico, altri FAS, i carboni attivi, perciò è una gamma molto ampia ed è stata ampliata ulteriormente. Un altro prodotto si chiama BSA ed è un addolcitore semi-automatico che va a sostituire tutti i vecchi addolcitori, i soliti bidoncini manuali d'acciaio che ormai hanno trovato un'epoca praticamente paleolitica, perciò un'evoluzione ulteriore e soprattutto nei piccoli utilizzatori, perciò nella gamma bar, nei forni, tutti quei luoghi dove ci va allacciata una cartuccia, usegetta, perciò questo inquinamento enorme di plastica, dove si può far meno c'è questo addolcitore BSA molto compatto, molto stretto che premendo un solo pulsante parte una rigenerazione automatica che permette al prodotto di rimanere ancora installato senza cartucce riutilizzabili, c'è da usegetta, questo enorme inquinamento di plastica con questo addolcitore viene completamente eliminato. Abbiamo anche un apparecchio particolare, innovativo, bellissimo, touch, tutto con un display retroilluminato che va direttamente al pubblico, al cliente finale, va installato su un utilizzatore finale, perciò su una lava bicchieri, una lava piatti, un boiler a condensazione, dove non si può installare un apparecchio come le mie spalle che è un addolcitore centralizzato, perciò fare grossi lavori di muratura e di idraulica. Questo nuovo apparecchio viene solamente, può essere addirittura agganciato a muro, staffato a muro, per andare ad utilizzare queste nuove concessioni, cioè boiler a condensazione, boiler a pompe di calore, che avrebbero quasi indispensabili un trattamento dell'acqua, ma dove non è possibile mettere su un centralizzato, andiamo a depurare solamente l'acqua calda, magari della caldaia. Beh, tanta roba, insomma, dire no vabbè sono solo poche cose, non è così in realtà. Beh, in tre anni ci siamo veramente evoluti, insomma, abbiamo fatto veramente tanto. Abbiamo mostrato negli ultimi minuti anche in modo visivo quelle che sono le vostre novità. Per coloro che si sono incuriositi e vorrebbero saperne di più, diamo un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno per richiedere maggiori informazioni. Sì, ci potete contattare sempre su info-balugani-srl.it Nadir, grazie per la collaborazione, ne saprete in ogni caso di più su tutte quelle che sono le novità della realtà Balugani-srl direttamente su orecanews.it attraverso anche le news che noi pubblichiamo quotidianamente, sono ben 25-26 ogni giorno, appena avete dei nuovi prodotti ne daremo notizie. Grazie mille a tutti, grazie, buona salata.